Kate Middleton, Principe William Kate Middleton e William sconvolti dal terribile incidente Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell'ordine della giarettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Maior. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l'ambulanza, le sono state riscontrate la frattura del vaccino e diverse ferite. Continua dopo la foto, William e Kate sono rimasti scioccati nell'apprendere la notizia. I duchi di Cambridge non si sarebbero accorti di nulla, finché, giunti al castello di Windsor, sono stati informati dell'incidente prima di partecipare alla cerimonia dell'ordine della giarettiera. I duchi di Cambridge sono devastati, riferisce una fonte al tabloido britannico. Hanno inviato subito dei fiori alla vittima, accompagnati da un biglietto scritto a mano, e sperano di poterla andare a trovare in ospedale per scusarsi di persona. Kate Middleton e William sconvolti dal terribile incidente in strada Un testimone dell'incidente ha dichiarato, la moto l'ha colpita, lei ha perso l'equilibrio ed è caduta. Poteva andare peggio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo della scorta in sella alla moto, viaggiava in contromano. L'ufficiale, dopo l'impatto, era distrutto. Proprio come William e Kate, dopo aver appreso l'antizia. Un'assistente dei duchi ha fatto visita alla figlia della vittima, Fiona. Lei e la madre vivono al 300 metri dal luogo dell'incidente nella zona ovest di Luntra. Un vicino di casa che ha parlato con Fiona, ha rivelato che è sconvolta e molto arrabbiata. Dopo il fatto, William e Kate sono riapparsi in pubblico per il primo appuntamento del Royal Ascot. Qualche mese fa il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, provocò un incidente stradale schiantandosi contro una vettura con a bordo una donna e i suoi figli. Incidenti shock purtroppo, gli incidenti stradali, in casa Windsor, si sono verificati spesso. Infatti, Lady Diana è morta prematuramente così. Fortunatamente Kate e William, sono l'esima la paura li ha devastati. La prudenza non è mai troppa in giro. La prudenza non è mai troppa in giro.